I migliori vini e birre marchigiani si ritrovano a Gabice Mare. I migliori vini e birre marchigiani si ritrovano a Gabice Mare. Stasera parliamo di cronaca giudiziaria perché oggi nel Tribunale di Ancona è arrivata la condanna all'ergastolo per i due killer di Marcello Bruzzese, collaboratore di giustizia che fu ucciso in pieno centro a Pesaro il giorno di Natale del 2018. Vediamo in servizio. Il Tribunale di Ancona ha emesso oggi la doppia condanna all'ergastolo per Francesco Candiloro e Michelangelo Tripodi, 44 e 43 anni, entrambi calabresi, entrambi ritenuti gli esecutori materiali dell'omicidio di Marcello Bruzzese, ucciso a colpi di pistola in pieno centro a Pesaro il giorno di Natale del 2018. Marcello Bruzzese era il fratello del collaboratore di giustizia Girolamo Bruzzese che dal 2003 testimoniò in diversi processi di drangheta. Fu ucciso in via Bovio scaricando sulla vittima due interi caricatori di pistoliche calibro 9 davanti al garage di casa dove Bruzzese viveva in incognito da alcuni anni. Un delitto che eccettò l'inquietante ombra della criminalità organizzata sulla città di Pesaro. Secondo l'accusa, Candiloro e Tripodi eseguirono una vendetta trasversale per conto della cosca calabrese Crea. La sentenza è arrivata oggi dopo la discussione davanti alla giudice Francesca De Palma. Resta ancora sotto processo a Pesaro il presunto complice Rocco Versace accusato di aver partecipato alla pianificazione dell'omicidio. Ed ora cambiamo argomento perché a Pesaro è scattato oggi il divieto temporaneo di balneazione in tre aree del litorale. Si tratta di due porzioni di Baia Flaminia, comprese fra via Leberna e via Parigi, nell'immediatezza della foce del Foglia, così come nei primi 30 metri a sud della foce del torrente Genica. Il provvedimento è stato previsto dal Comune in seguito ai rilevamenti compiuti da ARPAM, che ha segnalato il superamento del valore limite di diversi parametri. L'ordinanza rimarrà in vigore finché gli stessi valori non rientreranno nei limiti di legge. L'assessore all'ambiente Maria Rosa Conti ha riferito come la situazione dovrebbe rientrare in tempi brevi, visto che la variazione dei valori è riconducibile alle piogge d'inizio settimana. I controlli dell'ARPAM proseguiranno nei prossimi giorni. Ed ora un'altra notizia di cronaca che si lega alle tematiche della salute. I carabinieri NAS hanno effettuato in tutta la regione Marche una raffica di controlli nelle attività commerciali e di ristorazione etnica. In totale sono state rilevate irregolarità in 18 esercizi su 21 controllati. Due persone sono state deferite l'autorità giudiziaria perché detenevano merce in cattivo stato di conservazione e altri 16 gestori sono stati segnalati alle autorità sanitarie. Complessivamente sono state elevate 27 sanzioni per un importo di 23.600 euro. Nello specifico di Pesaro le sanzioni sono state 5, fra questi un ristorante cinese al quale è stata sospesa l'attività a causa delle scarse condizioni igienico-sanitarie, ristorante in cui sono stati sequestrati 20 kg di pesce e verdure privi di etichette o elementi utili alla rintracciabilità. E' morto questa mattina all'ospedale di Pesaro il ristoratore Roberto Mariotti, titolare da anni del locale Vinvito in via Tebaldi, in pieno centro storico. Mariotti aveva 63 anni ed era ricoverato da alcuni giorni in seguito all'aggravarsi di un tumore alle ossa, scoperto lo scorso settembre. I funerali sono stati fissati per lunedì alle 15.30 nella chiesa di Villa San Martino. Ed ora torniamo alla cronaca, ci spostiamo a Urbino dove la polizia ha elevato 13 sanzioni per situazioni di bivacco non autorizzato nel centro commerciale Santa Lucia, sfociato in alcuni casi in imbrattamenti con bombolette spray. Durante i controlli è stata trovata anche una bicicletta elettrica, risultata rubata, come da denuncia esposta lo scorso mese. Lasciamo ora la cronaca e apriamo uno spazio dedicato alla politica. Manca infatti un anno esatto alle prossime elezioni amministrative che andranno a decretare il nuovo sindaco di Pesaro. L'imprenditore turistico Fabrizio Oliva è il primo a rompere gli indugi candidandosi ufficialmente a sindaco attraverso una nascente lista civica. Siamo ad un anno esatto di distanza dalle elezioni amministrative che desegneranno il futuro sindaco di Pesaro dopo due mandati di Matteo Ricci e a 12 mesi di distanza Fabrizio Oliva, ex presidente di APA Hotels, è il primo candidato alla poltrona di primo cittadino. Oliva, una vita trascorsa nella politica turistico-alberghiera delle territorie, ora un salto nella politica con la P maiuscola diciamo. Certo, io ho fatto una scelta di candidarmi e di entrare in campo un anno prima, perché sono un candidato di una lista civica che sto componendo. Non ho necessità di tessere alleanze o trame con forze politiche o con partiti, con storie della città che non appartengono alla trasparenza e quindi ho scelto di scendere in campo perché credo che in questa città sia arrivato il momento di dare una svolta soprattutto per quello che riguarda la politica turistica ma soprattutto per l'economia della città. Il turismo è un punto focale della città perché come più volte si parla il PIL ha un numero importante anche per la nostra città ma se si vuole fare turismo in una città bisogna crederci fino in fondo, non bisogna fare le cose a metà. Quindi il primo appunto, il mio primo obiettivo è comunque trasformare il lungomare in un bel lungomare e quindi fare un intervento duraturo, quindi fare un investimento perché oramai tutte le città limitrofe lo hanno fatto e non fare un arredo diciamo provvisorio tutti gli anni. Turismo che inetabilmente è un discorso che si lega ai lavori pubblici che spesso diventano una prospettiva ma anche un ostacolo. Certo, l'altro argomento importante sono i lavori pubblici che non riguardano solo la zona mare perché oltre il controllo dei cantieri, qui abbiamo due esempi eclatanti che sono un boomerang per la città che sono il Palace Cavolini e il cavalcavia della stazione del treno che sono opere che sono iniziate da anni e che non vedono mai la loro fine. In più, una volta che si realizzano le opere, guardiamo quel poco di arredo urbano che è stato fatto sul lungomare bisogna pensare anche alla manutenzione perché non solo bisogna spendere o investire i soldi per realizzare le opere ma poi bisogna spendere anche i soldi per la propria manutenzione affinché rimangano belle nel tempo. Andando più sullo specifico del settore turistico alle porte dell'estate appena iniziata in questo mese di giugno il tema Movida torna d'attualità fino ai primi giorni di giugno? Sì, il tema della Movida torna d'attualità perché praticamente è iniziata la stagione turistica in modo esagerato cioè la Movida si sta impossessando praticamente del lungomare ora le due cose sono incompatibili per cui voglio dire la Movida va tolta praticamente da Velle Trieste questo non significa far morire o rendere una città morta ma significa controllare questo tipo di situazione per cui sicuramente fino alla mezzanotte si potrà secondo il mio programma voglio dire fare musica fare iniziative di spettacolo eccetera perché ovviamente il turista che viene non deve trovarsi di fronte a una città spenta ma non è possibile esagerare come è stato fatto in questo inizio di stagione dove vocalis, musica da discoteca fino alle due di notte che non danno solo fastidio alle attività alberghiere ma danno fastidio anche ai residenti perché ovviamente in questi due fine settimana la musica entrava nelle camere da letto fino alle due di notte quindi anche la gente e i residenti non riuscivano a dormire C'è un anno di lavoro per costruire questa candidatura? Inevitabilmente la politica di professione farà, busserà anche alle porte di Oliva per costruire questa alleanza Ma io guardi, io in realtà sto lavorando con imprenditori, commercianti, cittadini normali i quali comunque in questi giorni, già in questi pochi giorni, molti si sono avvicinati perché vogliono entrare in lista Ovviamente la lista non è precostituita, penso di poter fare una lista dove ci sarà un forte equilibrio tra la presenza di donne e uomini e diciamo fra pochi mesi presenteremo la lista proprio anche con i candidati Restiamo ancora a parlare di turismo, questa volta di turismo legato ai collegamenti ferroviari Dalla prossima settimana infatti parte l'Euronight che unirà Pesaro a Vienna e Monaco ma ci sono anche altre importanti agevolazioni per chi va in vacanza appunto nella città di Rossini grazie ad un accordo stretto con Trenitalia Venire in vacanza a Pesaro non è mai stato così conveniente Il nuovo accordo con Trenitalia sottoscritto dal Comune e l'Associazione Albergatori APA suona come una risposta alle accuse di scarsa capacità di apportare nuovi flussi turistici al territorio Sfreccia in prima fila agli eventi di Pesaro Questo è lo slogan della nuova campagna promozionale che offrirà grandi agevolazioni studiate per famiglie, persone singole o gruppi che viaggiano in treno Dalla Welcome Pesaro Card che raccoglie offerte, proposte culturali, turistiche e commerciali da sfruttare una volta iniziato l'alloggio e che offre un ticket omaggio per la visita a Casa Rossini al biglietto in treno rimborsato per chi prenota un soggiorno settimanale o bisettimanale in qualsiasi B&B del territorio Per il soggiorno di una settimana la quota rimborsabile arriva fino ad un massimo di 40 euro a persona mentre per soggiorni più lunghi che durano fino a due settimane si può arrivare ad un rimborso massimo di 80 euro Questo nuovo accordo va ad incrementare il grande lavoro iniziato tempo fa e che vedremo attivo il prossimo 11 giugno con il nuovo collegamento notturno che partirà da Ancona per arrivare a Monaco e Vienna Confermate che comprendono anche Pesaro insieme a Cattolica, Rimini e Bologna Il biglietto di viaggio che vedrà Pesaro come destinazione finale potrà essere acquistato su tutti i canali vendita di Trenitalia e rientrano nell'offerta anche tutti i viaggi con scalo a Pesaro anche con treni intercity, intercity notte, freccia bianca, freccia argento, freccia rossa e treni regionali L'amministrazione sottolinea che questo è solo un primo passo verso Pesaro Capitale della Cultura 2024 che vedrà concretizzare nuovi progetti e agevolazioni per chi passerà le vacanze sul nostro litorale Taglio del nastro ieri sera per la riqualificata pista polivalente della frazione di Pozzo Alto a Pesaro Un luogo di aggregazione rimesso a nuovo grazie a 30.000 euro investiti dal Comune attraverso il bando del bilancio partecipativo vinto dallo stesso quartiere di Borgo Santa Maria Le operazioni hanno previsto il rifacimento della pavimentazione, la tracciatura delle righe di gioco, una nuova rete perimetrale la sistemazione dell'area verde attorno alla pista e la manutenzione delle ringhiere Un ponte di pace tra Pesaro e i Balcani è quello creato fin dagli anni 90 dal compianto Gianfranco Di Dario imprenditore impegnato nel sociale, prematuramente scomparso durante il Covid Un impegno che è diventato un progetto scolastico Era il 5 aprile 1992 e durante la guerra in Bosnia iniziò l'assedio di Sarajevo Uno dei conflitti più lunghi e drammatici nella storia del XX secolo A Pesaro, come in tanti altri paesi del mondo, iniziano a nascere associazioni di pace e Gianfranco Pagnoni Di Dario fu una figura molto attiva che contribuì all'inizio degli anni 90 a fondare Time for Peace Marche Dopo la sua scomparsa, l'associazione ha voluto creare un progetto che facesse da ponte di solidarietà con Sarajevo un progetto che portasse il suo nome, per sottolineare l'affetto e la stima per uno dei soci fondatori più instancabile e attivo nel promuovere la pace e ridurre la distanza fra i popoli Questo progetto nasce proprio l'indomani della scomparsa di Gianfranco Di Dario Bisognava reagire e il primo impulso è stato Onoriamo la sua memoria con una borsa di studio Si è concluso con la premiazione È un premio, si sono volute premiare le due scuole perché se lavorano insieme, se lavorano a uno stesso tema, se lavorano con uno stesso scopo è giusto che vengano premiati tutti e premiando le scuole diamo la possibilità anche a chi verrà dopo di usufruire di questi fondi che noi abbiamo messo a disposizione La nostra associazione opera da circa 30 anni in rapporto con i bancani dall'inizio della guerra si è proteggata per aiutare, per chiare un ponte di pace tra le due spune dell'Adriatico Prima abbiamo iniziato con aiuti umanitari, poi proseguire con adesione a distanza e poi con finanziamento di progetti scolastici, soprattutto la creazione di aule di psicomotricità In questo momento stiamo creando un ponte culturale anche per vitalizzare il gemellaggio che è in essere tra Pesaro e Novica e Sarajevo che è anche un nostro orgoglio perché la nostra associazione ha lavorato tanto su questo progetto I protagonisti ovviamente sono sempre i bambini però I bambini che già 30 anni fa erano il punto di riferimento dell'associazione lo sono tuttora nella creazione di questi progetti e che nello specifico sono video, strumenti videotelematici appunto che rappresentano le diverse culture di Pesaro e di Sarajevo Ed ora cambiamo argomento, in questi giorni la musica del Conservatorio Rossini e la tecnologia della Sonosfera si ritrovano uniti nella prima edizione del concorso internazionale di composizione acustica tridimensionale Vediamo di cosa si tratta La pervasività che ormai l'elettronica ricopre nel panorama musicale ha permesso che il Conservatorio Rossini aprisse le porte al primo concorso internazionale di composizione elettroacustica tridimensionale un concorso denominato ISAC 2023 come lo stesso Eugenio Giordani direttore per 40 anni della Scuola di Musica Elettronica al Conservatorio di Pesaro aveva cercato di instaurare prima della sua scomparsa nel 2020 Se Giordani ne aveva curato l'idea, David Monacchi ora ne ha elaborato le sfumature generando una rassegna di concerti acusmatici 3D nella coccolata Sonosfera che Pesaro dispone Fino al 9 giugno sono ben 77 gli artisti candidati provenienti da 26 paesi del mondo a mettere in risalto le loro creazioni elettroacustiche Questo concorso di composizione elettroacustica mette insieme ancora una volta il Comune di Pesaro con il Conservatorio perché tutta la parte di ideazione è stata a cura dei nostri docenti di musica elettronica quindi per primo Davide Monacchi, il maestro Casetta Carmine Cella e quindi per noi è un motivo di grande orgoglio e tra l'altro questo primo concorso internazionale ha avuto un notevole successo 77 iscritti e porta il nome del grande Eugenio Giordani che per la nostra città e per il nostro conservatorio è stato un illustre maestro abbiamo ben portato a conclusione e alla fine quelle che sarebbero state le idee, le istanze più chiare di Eugenio sai quando si parla di musica elettronica si parla di una galassia di approccio oramai che non ha fine ma c'è una musica elettronica di origine c'è una musica che oggi viene chiamata musica elettroacustica di ricerca che è quella che fonda le sue radici negli anni 40 la musica elettronica ha più o meno 60-70 anni ed Eugenio era molto agganciato a queste radici storiche del pensiero compositivo musicale elettronico due saranno le giurie che decreteranno i primi tre classificati la prima nazionale è composta da docenti di conservatori italiani tutti ex allievi della scuola di musica elettronica del conservatorio Rossini mentre la seconda internazionale frutto di una collaborazione con l'università di Stanford, Vancouver e Oslo i brani sono stati già selezionati ma gli autori verranno per fare quello che viene chiamato un final mix un messaggio finale un raffinamento in loco delle loro composizioni questo concorso dà anche la possibilità ai tre premiati che sono arrivati di lavorare alle proprie composizioni in sonosfera in una mini residenza artistica che li vede poter confrontarsi con uno degli strumenti per la generazione del suono tridimensionale più complessi al mondo siamo molto contenti aspettiamo il pubblico di Pesaro anche ad ascoltare il risultato di questo concorso in sonosfera perché è un'esperienza veramente unica ma non unica in Italia unica in Europa di ascoltare composizioni di questo livello innovativo di questo livello di frontiera dentro uno spazio che è così evoluto abbiamo questa grande professionista di composizione elettroacustica che è Natascha Barrett che è la presidentessa della nostra giuria che arricchisce ancora di più questa commissione di alto profilo dal 12 al 16 giugno la città di Fano ospiterà la seguita trasmissione estiva di Sky Sport calciomercato l'originale il programma condotto da Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio ogni anno fa tappa in alcuni luoghi delle vacanze degli italiani e la prossima settimana avrà come punto centrale il palco dell'ex chiesa di San Francesco dove ogni sera si alterneranno ospiti prestigiosi del mondo del calcio e del giornalismo sportivo un'opportunità resa possibile grazie al sostegno della regione Marche in un format che per tutta la settimana prevederà collegamenti dai luoghi più iconici della città della fortuna a Pesaro sabato 10 giugno dalle 15 all'una di notte si terrà la terza edizione del compleanno di Mirko una festa itinerante che nasce con l'intento di celebrare la figura di Mirko Bertuccioli in arte Zagor Camillas artista prematuramente scomparso nell'aprile del 2020 nel locale legno di Viale Trieste si alterneranno per tutto il giorno numerose band musicali e DJ inaugura invece domani alle 19.30 nella biblioteca Braille di Baia Flaminia la mostra fotografica il sole dà energia e si fa poesia inserita nel calendario di note di quartiere progetto del quartiere vincitore del bando capoluogo della cultura in mostra ci saranno 100 scatti di 8 fotografi amatoriali che racconteranno le immagini bellissime di Baia Flaminia e del San Bartolo lunedì 12 giugno ci sarà il quinto appuntamento con Calici di Parole la nuova iniziativa di promozione culturale ed enogastronomica organizzata da Confcommercio Marche Nord e Associazione Italiana Sommelier alle ore 18 nella sede pesarese di Confcommercio è in programma l'incontro con Filippo Cannizzo filosofo e ricercatore universitario che presenterà i libri Bricioli di Bellezza e Lacrime di Gentilezza premiati in diversi concorsi letterari e concludiamo segnalandovi un altro appuntamento sabato e domenica 90 produttori d'eccellenza di vino e birre marchigiane si ritroveranno a Gabice Mare per far degustare i loro prodotti in questa prima edizione del festival Marche Divine La regione Marche sceglie la sua porta nord di Gabice Mare per allestire la prima edizione di Marche di Wine un nuovo evento focalizzato sulla promozione del vino e delle birre made in Marche che si svolgerà sul lungomare Cristoforo Colombo di Gabice dal 10 al 12 giugno una manifestazione che coinvolgerà in totale 90 aziende del territorio fra degustazione al pubblico e momenti di confronto fra operatori del settore Abbiamo scelto Gabice perché Gabice è l'incrocio tra due territori è la fine della riviera romagnola, è l'inizio, la porta d'ingresso delle Marche due territori che si incontrano, due territori che scambiano informazioni due territori che possono scambiare esperienze due territori che possono anche reciprocamente e anche in maniera simbolica crescere rispettivamente proprio utilizzando una interconnessione maggiore due territori significa anche due bacini in questi territori e in questi bacini è giusto che venga esaltato il valore della nostra capacità produttiva e l'espressione fortissima e altissima che le nostre aziende vitivinicole e di produzione di birra hanno raggiunto Una grande opportunità, quando ci è stato proposto abbiamo accolto favorevolmente l'invito quindi ringrazio il Presidente e la Giunta regionale che hanno puntato su Gabice Mare, porta a nord delle Marche quindi è un'edizione zero, al di là che sia un'edizione nulla però sicuramente sarà una grande vetrina sia per la nostra città, quindi grande opportunità sia per la regione Marche come porta d'ingresso nella nostra meravigliosa regione Ci è piaciuto giocare su questo Marche di Vine, di Wine vino, birra e spirito delle Marche dove spirito sta non per spiriti ma per spirito quindi per tirar fuori il carattere vero della regione che è una sintesi perfetta tra turismo, vino, enogastronomia e bellezze del territorio E allora come vedete sono tante le iniziative nel nostro territorio da vivere all'aperto in questa estate che tarda un po' ad arrivare ma comunque è sempre molto ricca di eventi interessanti e invece io vi consiglio di restare con noi su Rossini TV perché tra pochissimo andrà in onda il 77esimo anniversario della Festa della Repubblica evento che abbiamo ripreso potrete vedere anche tutte le persone che hanno ricevuto le onorificenze da parte del nostro prefetto E poi invece alle 21.20 vi andiamo a raccontare quella che è stata la nuova edizione di Cali City quest'anno avvenuta in via Castelfidardo e quindi vi aspettiamo alle 21.20 E poi la nostra rassegna stampa torna domani alle 7.20 mi raccomando ci trovate in diretta sul canale 80 e anche sulla nostra pagina Facebook Vi ricordiamo tra l'altro a tutti quelli che sono appassionati di allenamento da casa che la nostra Katia e il nostro Tiago riprenderanno i loro appuntamenti lunedì 12 giugno e li troverete sempre da lunedì al venerdì però in un orario diverso cioè alle 9.30 del mattino e anche alle 17.30 Grazie come sempre per essere stati con noi seguiteci sui nostri social su Facebook, su Instagram così potrete vedere anche il backstage le foto di quello che facciamo ogni giorno e anche per mettervi in contatto con noi visitate anche il nostro sito www.rossinetv.it e proprio sul sito potrete anche rivedere le repliche dei telegiornali ma anche di tutti i programmi che produciamo ogni giorno Buona serata